Oggi concluderemo il nostro progetto andando a scrivere l'app che reagirà alla nostra voce. La realizzeremo con App Inventor. Iniziamo subito. Creiamo una nuova app con Meetup Inventor. Non serve neppure registrarsi, quindi entrate e usate la vostra account Google. Gli diamo un nome, comando vocale, diamo OK. Attendiamo un attimo che l'ambiente viene preparato. Trasciniamo prima di tutto un list picker, modifichiamo il testo, accertiamoci che si è selezionato nella parte proprietà. Andiamo a cercare il testo e qui mettiamo connetti. Servirà per andare a selezionare il Bluetooth. Poi ci serve un secondo pulsante che mettiamo subito sotto, che qua andiamo a cambiare il testo e mettiamo ascolta. Questo servirà per lanciare il riconoscimento vocale. Selezioniamo media, qui prendiamo l'oggetto speech recognizer, lo tasciniamo al centro dell'app e apparirà sotto. Ci serve poi sotto connettività un Bluetooth client, quindi selezioniamo l'oggetto, lo trasciniamo sopra, questo finisce sotto. A questo punto passiamo nella parte blocchi per andare a scrivere il codice, vedete che è molto semplice. Quando l'app parte abbiamo il nostro list picker che è una lista che contiene tutte le connessioni Bluetooth. Dobbiamo andare a compilarla, quindi a riempirla. Usiamo il metodo before picking, quindi prima di aprirla, e le connessioni Bluetooth ce le dà l'oggetto Bluetooth client. Qui abbiamo address and name, la proprietà, quindi Bluetooth client and addresses and name, quindi ci dà gli indirizzi e i nomi delle connessioni visibili del nostro modulo Bluetooth. Ricordatevi di abilitare il Bluetooth sul telefono ed eventualmente fare il pairing con Arduino. Poi vedremo come fare. Allora, per aggiungere gli elementi al list picker, prendo il list picker, ho questo blocco dove ho il list picker elements to, serve per riempire gli elementi della nostra lista. Questo compiere la lista, quando la apro avrò un metodo che è list picker after picking. Dopo aver aperto la lista e aver selezionato uno degli oggetti, vado a leggere il valore e avvio la connessione. Quindi sotto list picker ho list picker selection, è l'elemento selezionato dal mio list picker. Con l'elemento selezionato vado ad avviare la connessione, quindi sotto Bluetooth ho Bluetooth client connect, quindi faccio collegare il Bluetooth e gli passo il nome della connessione che trovo sempre sotto list picker. Allora, prendo un oggetto qualsiasi, modifico la tendina, qui gli metto selection. Quindi list picker 1 selection, questo mi collega alla connessione selezionata. Posso anche modificare il testo sull'e-speaker con gli speaker text to, così che possiamo accorgerci che ci siamo collegati. Prendo una farfallina e qua gli metto connesso. Questo serve per la connessione al Bluetooth. Poi per andare ad accendere e spegnere il LED, creo una procedura, anzi ne creo ben due. Quindi prendo il blocco e lo copio. Le chiamo uno LED on e l'altra la chiamo LED off. All'interno vado a mettere un blocco IF e qua sotto Bluetooth client ho un metodo che mi dice se il Bluetooth è connesso. Quindi IF Bluetooth is connected, quindi se la connessione con il modulo Bluetooth è attiva, allora posso inviare un testo. Quindi sotto Bluetooth client ho send text. Il testo che mando è, prendo una semplice farfallina, quindi per accendere il LED mandiamo la A, però la faccio seguire dal carattere di A capo, quindi slash N. Copio tutto il blocco, perché tanto il codice interno è praticamente uguale, lo chiamo LED off. E qua cambiamo semplicemente il carattere e mettiamo S, sta per spento. Ora, quando chiameremo questa procedura, potrei mettere un pulsante, l'avevamo visto tempo fa, ma noi abbiamo lo speech recognizer che attiviamo col bottone 1. Quindi quando il bottone 1 viene premuto, chiamo il riconoscimento di testo, quindi call speech recognizer get text. Questa chiamerà una funzione di Android che si appoggia a delle strumenti di Google, quindi vedrete aprire una nuova interfaccina. Questo fa la chiamata passando il testo a questa funzione esterna, ed è una cosa asincrona, cioè non ho subito la traduzione. Faccio il click, mando la voce a Google, Google la traduce in un testo e dopo averla tradotta, quindi dopo qualche millisecondo, quando il risultato è pronto, viene generato un secondo evento che mi dà il testo. L'evento è after getting text, quindi dopo che il testo è stato ricevuto. Qui aggiungiamo un if e devo andare a beccare due casi, quindi aggiungiamo s if qui sotto in modo da poter distinguere due casi e andremo a intercettare il caso in cui il risultato, quindi il testo che noi andiamo a pronunciare, quindi viene riconosciuto da Google, è uguale a, qui mettiamo, facciamo trim per togliere eventuali spazi che sono all'inizio e alla fine e poi conviene anche mettere down case in modo che sia tutto minuscolo, quindi senza spazi all'inizio e alla fine è tutto minuscolo. Poi mettiamo il testo che vogliamo far riconoscere, quindi prendo una farfallina e qui mettiamo accendi il led o spegni il led, quindi accendi il led, incollo il testo qui dentro, per far accendere il led vado sotto procedure, qui trovo la procedura led on che abbiamo creato noi, basta che incollo il pezzettino. L'altro caso seleziono il blocco verde, faccio ctrl c, ctrl v, lo incollo nel secondo if, qua invece che accendere il led metto spegni il led, vado sotto procedure e prendo la procedura led off, a questo punto possiamo caricare l'app sul telefono, possiamo o farla arrivare con la e-companion, quindi l'app di App Inventor che va installata sul telefono, oppure addirittura fare un build e per compilarla ottenere la pk da installare proprio fisicamente sul telefono. Se vogliamo solo fare delle prove usiamo la e-companion. Per provare l'app dovete abilitare il bluetooth, andate sulle impostazioni, sotto connessioni bluetooth, lo accendete, dovete cercare la connessione con la schedina bluetooth, quindi DF Robot B3 V3, se necessario fornite il pin, in questo caso io ho già dato il pin, la connessione finirà nella parte dispositivi accoppiati, quindi fatto questo potete lanciare l'app. Per lanciare l'app andate nell'app Inventor, fate connect con i-companion, qua fate la scansione del QR code, dovete aver installato l'app Meet i-companion, che trovate qua, quella arancione con la pina, la lanciamo, facciamo la scansione del QR code, quindi premo scan QR code, attendo che l'app si carichi. Una volta che l'app è arrivata premo connetti, qua vediamo le connessioni bluetooth disponibili, clicco su DF Robot, attendo che la connessione sia stabilita, vedete che c'è scritto connesso, ora possiamo parlare e chiedere alla nostra app di accendere o spegnere il led. Prendi la candela. Rimetti a posto la candela. Spero che il progetto sia stato interessante, sicuramente apre delle porte per realizzare cose molto molto interessanti, quindi per andare a interagire con gli oggetti che ci circondano anche con la voce. Bene, se fossero dubbi o domande lasciatemi un commento, vi risponderò appena possibile, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao! Ciao!